Benvenuti da Frambo e oggi siamo arrivati su Minecraft, questo è il mio villaggio, monto di creative, tutte le istruzioni, farm di cano di bambù, farm di grano, farm di cobstone, fornace automatica, trampolino, cassa creata con creative, zucca di halloween ragazzi, oggi crei un villager ragazzi, però non pixel art a terra, ok andiamo a farlo, allora lui è, uno, due, tre, così, lo stanziamo un po', un, due, tre, sempre, Ok, andiamo a farlo, il villager ragazzi, ok ragazzi, possiamo farlo così, così, ok, poi si ricorda la bocca così, Ok, qua possiamo chiudere ovviamente, Oh ragazzi, qua, così, poi qua, tu, Fa così, Una sola raga, vabbè, una sola, Ok, ragazzi, vediamo dopo, Ok, poi, ok, poi, ok, Ok, poi, ok, vaihosi, Ok, poi, ok,wersi, poi il bianco ovviamente mettiamo ok aspetta vediamo un attimo ma sapevo fino a stracciare l'occhio allora deve essere più così e non è così preciso così le sue cilie tutta nere forse nero ovviamente ok aspetta che raga poi potete vedere ok vediamo come sta venendo ragazzi ma sembra un piccolo pillager poi il cappello giallo blocco giallo così raga così raga così raga ovviamente qua esce così ok così raga vediamo come è fatta la che un po di blocchi meno scuri così raga con un po di blocchi meno scuri che c'è che c'è così raga ok ok ragazzi ok ragazzi il file ma tanto bene però ok il fatto che faremo un po di blocchi meno scuri faremo un po di blocchi meno scuri meno scuri meno scuri meno scuri meno scuri meno scuri meno scurre fare ok andiamo prende i tappeti ok un giorno al bianco richiede e si è ok non c'è la mente di rama prima di vedere cosa cosa raga otteniamo un piccolo dei secondi un paio di colori raga ok andiamo a prendere subito questa ragazza un ripetitore della redstone se non per questo e ci manca solo il blocco di questa blocco di line qua mettiamo così raga redstone un ripeto ripeter non di questi questo è un ripetito questo è un ripetito un ripetito della redstone line ragazzi intanto prendiamo blocco lo mettiamo so ragazzi facciamo salire ovviamente il blocco perché vediamo il resto c'è un usci intanto così le cose sarà levo raga abbiamo una leva un bottone non aveva la leva ecco così perché si alzano per quello ma ragazzi non direbbe ragazzi ragazzi però non farli muovere metterò della pedro sicuramente non si può muovere l'ossiglia come pensano così ragazzi siamo così se non passa l'impulso e cominciamo ragazzi siamo pure togliere prendiamo 1 2 3 e 4 grazie nero e grigio questo non vi mettiamo qui 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 ragazzi mettiamo un sereno mette ancora ora l'ordine ok ora che si è così si siamo arrivati fino a ok raga così è l'ultimo colora raga ok ci facciamo anche due sti tappeti anche ragazzi è questa cosa ragazzi per il minaggio più lontano ok ragazzi 3 2 1 via e questo è un effetto ragazzi se vi è piaciuto lasciate un like iscriviti al canale per un prossimo video per la raga grazie a tutti